Bella gente, come ve la state passando? Io diciamo tutto bene Nulla, volevo un po' sapere come ve la stavate passando dato che... niente così Quindi fatemi sapere un po' come state su questa questione, perché adesso da un paio di giorni uscita ho tutto questo casino un po' sulla questione Gabigol perché appunto inizialmente, io non capisco perché prendere e comprare un giocatore se poi la tua intenzione alla fine è quella di mandarlo in prestito sempre in una squadra italiana, si dice che sia la Sampdoria la Samp la favorita ogni volta che io registro deve sempre succedere qualcosa adesso c'è il cane e nulla fatemi un po' sapere cosa ne pensate appunto, perché molti mi hanno scritto cosa ne pensi questa questione di Gabigol perché questo giocatore non gioca perché non lo mettono nemmeno in campo, tipo all'ultima partita dell'Europa League potevano benissimo schierarlo un pochino, giusto per almeno darci quel voglio dire ma niente quindi adesso si stanno diciamo facendo avanti le ipotesi più ma quella appunto più accreditata è che vabbè hanno preso questo giocatore adesso lo vogliono mandare in prestito io dico ma perché cavolo lo prendi? non lo so comunque fatevi un po' sapere cosa ne pensate voi se è la verità o se in realtà c'è qualcosa di sotto è nulla io vi auguro un buon proseguimento di serata è nulla fatemi sapere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti